e ciao a tutti amici del prenesse studios e ben trovati qui per un nuovo video insieme come vedete quest'oggi torna sfumettando la rubrica dedicata al mondo dei fumetti ma noi come sapete ci concentriamo sempre a parlare di fumetti bonelli per l'appunto zagor zagor ritorna qui sul mio canale dopo un periodo di pausa dovuto al festival di sanremo per cui le mie letture sono andate avanti sono riuscito dopo questi dieci giorni dedicati al festival sono riuscito a recuperare altri tre albi di zagor leggendoli e potendo preparare anche una piccola recensione che voglio portare qui sul canale oggi insieme a voi partiamo subito con il numero 700 io ho preso che tra l'altro vorrei ricordare a tutti che è quello di novembre se non vado errato si novembre 2023 io ho preso la variant come potete vedere ok la variant del numero 700 direttamente in edizione limitata ecco potete vedere anche il retro sempre con la mitica immagine di ferri con la copertina che è stata disegnata da asaf anuca un disegnatore israeliano credo non so se sia se sia che esatto onestamente non lo conosco mi piace molto però questo design un po diverso rispetto al solito piccinelliano mi verrebbe da dire mi piace molto e soprattutto credo che sia anche un po c'è incarni perfettamente quello che siamo noi ovvero un bambino che nella sua camera crede di essere zagor diciamo così quindi è bella come come immagine e tra l'altro richiama moltissimo la storia all'interno del numero 751 dell'edizione zenith che però corrisponde al settecentesimo numero di zagor che è la foresta dei destini incrociati una bellissima storia disegnata interamente da piccinelli questa volta e i testi sono di gius fredi e la storia mi è piaciuta molto non so se qualcuno di voi se la ricorda visto che è passato un po di tempo però abbiamo praticamente un come possiamo dire una sorta di richiamo a me mi ha ricordato moltissimo l'albo gigante di zagor e l'uomo che sconfisse la morte più o meno come tipologia di storia vediamo zagor che ovviamente si ci cimenta sempre nel suo personaggio e parte all'avventura che ovviamente questa avventura come al solito finisce sempre un po nel creare disagi al nostro pavero cico e non solo detto questo finisce dentro insomma al villaggio dello sciamano taika e questo taika praticamente gli tende una trappola gli tende una trappola e deve per forza insomma è stato invitato per una motivazione ma in realtà si scopre che la motivazione è un'altra quella di sfidare il il sagame di guerra di tutte le tribù indiane zagor non vuole affrontarlo invece però viene costretto da questo sciamano potentissimo detto questo viene avvelenato e il nostro caro zagor vince l'incontro ma essendo avvelenato comincia a sbarellare a cadere ovviamente era tutto un piano programmato da questo sciamano che lo porta all'interno e qui si rivede una vecchia conoscenza per tutti gli amici di zagor diciamo così vecchi lettori si rivede una vecchia conoscenza e viene per l'appunto zagor viene sostituito da questo personaggio solo che però è terribilmente invecchiato e quindi sembra che taika riesce a salvare la vita zagor ma prosciugando tutta la sua energia vitale questa energia vitale viene mandata a lui quindi si rivede un taika giovanissimo e zagor invece con i capelli lunghi bianchi un po' rinseccolito e soprattutto barba lunga invecchiatissima da qua il povero cico non ci capisce più niente se lo riporta appresso credendo che fosse zagor e invece non è così per il resto della storia se non se non l'avete letta non vado avanti se l'avete letta la sapete per cui è inutile detto questo la storia parte molto bene mi piace molto avvincente inizia e finisce in questo numero per cui anche questo è un modo molto interessante per chi magari non ha mai letto zagor di avvicinarsi al personaggio con il numero 700 lo può fare tranquillamente storia molto avvincente e allo stesso momento si si vede un po quello che è il personaggio di zagor secondo me nella totalità a 360 gradi oggi vado un po più veloce ragazzi perché abbiamo abbiamo tre albi da mostrare e non voglio fare il video troppo lungo detto questo arriviamo a dicembre numero 752 comincia la storia dedicata a il passato di jenny eccola qui torna improvvisamente jenny sì la famosa jenny quella che non si ricordava nessuno prima che il nostro caro moreno burattini decidesse di dargli maggiore importanza e farla morire ormai circa un paio d'anni fa in questa storia si rivede praticamente il passato di jenny ma soprattutto tutti i contesti che che ci sono poi ovviamente intorno a lei anche le persone si vedono determinate cose e si spiega in un modo abbastanza tragico ma allo stesso momento intarsato con dei momenti anche non dico divertenti ma che facevano comunque capire il morale e soprattutto la carattere di jenny e della sua amica sara un'avventura sul primo incontro per l'appunto di queste due con zagor qui si vede una bellissima avventura dove si incontrano la prima volta e dove un po diciamo tutti gli amici del del point diciamo così dei trapper del preso il point credo si chiami non ricordo mai c'ho sempre questo nome vediamo un attimo se l'ho pronunciato bene ho paura che sono sempre pleasant no pleasure scusate pleasant point ecco io mi sbaglio sempre insomma e detto questo insomma tornano tutti quanti insieme anche dei vecchi amici di zago cico di tutta la compagnia che si trova a plan sant a plan sant point e praticamente si comincia a ricordare un po questa storia e nel frattempo ovviamente qui ci sono tutti i ricordi tutte le cose del primo incontro con jenny ma da qui parte anche un'altra storia che è poi la tana del serpente questi sono due albi che praticamente racchiudono un po la storia del passato di jenny e del primo incontro che il nostro ha ottenuto con la sua amata diciamo così la tanto amata jenny che quel cattivone di moreno burattini ha deciso di uccidere e creando praticamente disagio su tutto youtube non da me perché onestamente a me la storia mi è piaciuta come andata anzi dovete sapere che io sono una persona molto nostalgica per cui se avete la possibilità di leggere le mie le mie poesie o i miei libri ve ne accorgerete da soli ecco insomma nel mio libro western ad esempio c'è un richiamo molto similare al a quello che si vede qui no poi al finale di questa storia ma comunque andiamo avanti sarah e jenny volevano scappare da una vita brutta a boston all'interno di una fabbrica e arrivano ovviamente in america arrivati in america però si rendono conto che la vita non è così bella perché si sono affidati a un truffatore che le ha portate praticamente a lavorare dentro un bordello diciamo così dentro un saloon e quindi diciamo prima le facevano le cammeriere poi la strada ovviamente successiva è quella di fare le donne di intrattenimento diciamo così in questo caso in quest'albo si vede che riescono a scappare Zagor riesce comunque a dargli una mano e in parte le salva purtroppo non si i tre non si accorgono che c'era un'altra squadra che era stata mandata a recuperare queste due ragazze che scappano da questo che erano scappate insomma da questo diciamo così saloon e bordello e alla fine vengono catturate e Zagor tanto per cambiare viene creduto morto di conseguenza le riportano in questo saloon e vengono tenute segregate per qualche giorno in modo che le due ragazze capiscano la lezione detto questo ricordo a tutti che tra l'altro la storia di Jenny i testi sono sempre di Burattini e i disegni sono di Laurenti andiamo avanti e arriva il momento del morso del serpente questo ipotetico serpente ovviamente è il cattivone di turno questo Mac Crea questo Mac Crea praticamente gestisce ovviamente a parte una banda di di loschi personaggi anche questo saloon dove Jenny e Sara vengono riportate e dove praticamente cominciano a a svolgere poi i lavori quelli che come avevamo detto che facevano anche prima ma questa volta purtroppo la povera Sara viene abusata da parte dello stesso Mac Crea e mentre diciamo così insomma era il momento di Jenny arriva riesce arrivare Zagor che ritorna sulle sue tracce e scusatemi scusatemi ritorna sulle tracce ovviamente dei lestofanti che sono scappati riportando Sara e Jenny dentro il saloon ritorna davanti a quella che sarà la sua futura amata cerca di salvarla proprio nel momento del massimo bisogno ovviamente non salverà solo lei salverà anche Sara che è stata segregata in un altro posto ma salverà anche tutte le ragazze presenti all'interno di questo saloon detto questo succederanno altre cose che non vi sto qui a elencare e poi si vedrà anche una cosa molto molto importante credo che questo sia un finale molto bello devo dire la verità mi è piaciuto molto il finale di questa storia e credo che anche questa cosa essendo che poi c'è stato tutto questo parlare tutto questo chiacchiericcio credo che secondo me le avventure di Jenny non siano finite qui né tantomeno le avventure con Zagor e Jenny per cui secondo me il personaggio ovviamente attraverso racconti visto che è stato fatto morire attraverso racconti tornerà questo era la tana del serpente tra l'altro che continua ovviamente la storia per cui sono sempre testi di burattini qui e qui e disegni di laurenti ovviamente continuano insomma c'è conclude per questa parte la storia di Jenny per il momento tornerà Jenny? Non lo sappiamo a me onestamente visto che si parla sempre di Jenny questa storia qui non mi è dispiaciuta per niente sono molto contento di come è uscita fuori c'è quel velo di nostalgia che mi è piaciuto molto e comunque si è cominciato a dare importanza anche al personaggio di Jenny perché molti l'hanno criticato dicendo ma fino a poco tempo fa non c'erano albi dedicati a lei ecco dopo quello della morte ce ne stanno altri due probabilmente ce ne saranno anche altri perché il finale lascia proprio intendere questo detto questo questo qui è il numero di gennaio 2024 per cui ho quasi recuperato tutto il numero di Super Mike ragazzi lo commenterò poco più avanti perché non so di preciso se farò un video in questo mese oppure aspetterò l'uscita del numero successivo per farle poi tutte e due insieme perché sto lavorando a un grande ritorno qui sul canale oltre che a una diretta nuova nuova fresca fresca insieme visto che è tanto che non stiamo in diretta detto questo ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate io do a questa storia secondo me un 6 e mezzo meritatissimo 6 e mezzo quest'altra storia nel suo complesso anche questa 6 e mezzo ovviamente voto tutte e due gli albi insieme però questo il primo mi è piaciuto di più quello di dicembre mi è piaciuto di più rispetto a questo che aveva magari un po' meno pathos secondo me detto questo ragazzi io vi do appuntamento al prossimo video su youtube qui con me mi raccomando se il video vi è piaciuto lasciate un like se vi ricordavate le storie o se ancora non le avete lette spero di non avervi spoilerato troppo vi mando un grande abbraccio ci vediamo sempre qui sul canale del prese studios ciao